come costruire in minecraft dei fuochi da cucina perfettamente funzionanti i saluti a fine video andiamo a vedere come funziona questo fuoco questa cucina con fornelli perfettamente funzionanti allora mettiamoci in prima persona costoletta di maiale cruda la mandiamo direttamente qua sopra il pollo crudo lo mandiamo da quest'altro lato aspettiamo un po e dovrebbe uscire qualche cosa eccolo qui uno vediamo un altro che cosa esce vediamo un po eccoli noi andiamo a raccogliere e ovviamente pollo goto e maiale costruita di maiale goto e ne arrivano ovviamente gli altri ovviamente continuiamo a mandare dentro e ops mando mando dentro e poi ovviamente continua a cuocere il tutto vedete che esce in continuazione ora andiamo a costruire il tutto andiamoci a prendere il materiale necessario per costruire la prima parte di questi fuochi da cucina ok allora in questa zona vado a individuare quattro blocchi di spazio all'interno ci metto i due falo che poi vado a spengere subito con la pala di legno poi sopra andiamo a mettere un blocco di quarzo in questo modo poi binario binario vagonetto distruggo vagonetto distruggo e andiamo avanti nello step successivo andiamo a completare la parte grafica andiamoci a prendere la botola di ferro la botola di betulla poi la leva e il pistone allora botola di betulla le andiamo a posizionare in questo modo per coprire questa parte poi botola di ferro la andiamo a mettere appena sopra i due fornelli poi 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 pistone a pc no pistone normale che guarda verso il basso mi avvicino un po di più ok abbiamo sottoccato niente poi leva azioniamo azioniamo la leva e abbiamo graficamente creato i nostri fornelli ora andiamo a rendere funzionanti il passaggio successivo dobbiamo creare un po di spazio contiamo 1 2 3 4 5 blocchi poi ci spostiamo di 1 2 e 3 tutta questa roba dobbiamo scavarla per tre blocchi tre livelli in basso quindi uno abbiamo scavato due e tre e poi vado a scavare perfetto allora andiamoci a prendere la tramoggia poi la fumigatore e lo sgancio sì poi rispetto a questa visuale andiamo a scavare ulteriormente questi blocchi ok qua mi vado a fare anche un po di spazio perché adesso ci servirà allora mi sto poggiando qui i due le due tramogge poi affumigatore affumigatore davanti in questo spazio andiamo a mettere il primo sgancio rivolto verso l'alto e di nuovo mi sto accucciando l'altro sgancio rivolto sempre verso l'alto poi tramoggia mi sto accucciando verso lo sgancio guardo la seconda tramoggia e nuovamente mi accuccio in modo tale che queste due tramogge siano connesse e vadano verso lo sgancio poi mi sto accucciando nuovamente tramoggia ok che è collegata a quell'altra tramoggia ora andiamo a fare la parte di redstone via quella parte di redstone ci prendiamo un comparatore ripetitore e poi polvere di pietra rossa poi ci prendiamo anche un blocco diciamo di passaggio pieno allora comparatore da questo lato poi ripetitore che va ad impattare questo blocco la polvere di pietra rossa la facciamo tornare indietro questo lo intanto lo invertiamo da quest'altro lato facciamo uno due e di nuovo ripetitore di pietra rossa che va ad impattare questo blocco di quarzo per portare il tutto nuovamente in superficie mettiamo anche questo blocco di pietra rossa dovrebbe essere funzionante manca manca un componente fondamentale da mettere all'interno dei nostri affumicatori qua abbiamo qualcosa che sicuramente non può essere cotto comunque non verrà molto buono ora dobbiamo andare a riempire il tutto allora mi sono preso un blocco d'erba vado a riempire almeno questi nove blocchi ok e poi mi sono preso dei oggetti crudi tipo pollo crudo andiamo a gettarlo 1 2 e 3 e poi costoletta crudo 1 2 3 aspetto un po' e magicamente 1 1 2 e massa che cottura perfetta e siamo pronti per mangiarceli ok quindi sta a funzione qua continuano ad arrivare blocco d'erba non credo che sia il massimo ok via vediamo se stanno funzionando 1 2 3 tiralo fuori eccolo là e ce lo andiamo a prendere e a mangiare prima dei saluti ti ricordo di seguire il mio profilo marco vigelini su tik tok ed instagram in cui parlo dei miei lavori con minecraft e con altri videogiochi poi ti ricordo che in descrizione trovi il link di download del nostro mappe minecraft bedrock completamente gratuite su venezia su pitacora e lo stadio maradona trovi anche il link per agganciarti al nostro server discord e dal nostro server minecraft che sia bedrock che java attraverso i quali abbiamo già avviato contest di costruzione e giveaway come quelli che realizzo per le scuole italiane poi se non già fatto iscriviti e fai iscrivere soprattutto i tuoi amici al server discord e qui sul canale youtube detto questo commenta e metti mi piace al video mastro se ti è piaciuto infine dai un'occhiata a queste playlist che ti suggerisco mentre saluto ivano e francesca dal canale youtube che mi hanno chiesto di essere salutati lo sto facendo in questo momento ciao